Miei piccoli e grandi amici, miei amici grandi e piccoli, un bel saluto dal vostro mitico Gino Box, ma non un saluto qualsiasi, un saluto trascendental apocalittico, ebbene sì, un super saluto dal vostro Gino Box, benvenuti nella playlist dei gameplay, tutti pazzi per YouTube, qui mi diverto da morire con i miei videogiochi, e ne ho tanto sentito parlare di questo Super Red Carpet Rampage, il videogioco, i videogames, i videogames, dedicato a lui, il grandissimo Leonardo DiCaprio, che non riusciva mai a vincere un Oscar, poi è arrivato The Revenant, The Revenant, The Revenant, The Revenant, The Revenant, come cavolo si chiama, ebbene sì, è arrivato con quel film a vincere l'Oscar, ma prima ci hanno provato anche con un videogames, come vi dicevo, questo Super Red Carpet Rampage, un videogioco abbastanza complicato, con il quale mi sono cimentato anche io, e vi faccio vedere subito il gameplay, Andiamo dunque col gameplay, si parte come vedete, sotto il nostro Leonardino che inizia a correre, adesso lo vediamo sulla luce dei riflettori, gli mostrano un Oscar, e lui impazzisce, indiavolato, imbufalito, è un gioco che trovate in internet, si può giocare in internet, io ho già iniziato a giocare, vedete come inseguo la mia statuetta, mi sono imbattuto in un fotografo che mi ha fermato, e mi ha costretto a ripartire, ma adesso sono più determinato, se lo ritrovo col fotografo lo scatafascio, eccolo qui, era un cameraman, corro, corro veloce, oh un bonus game, molto bene, devo riuscire a liberarmi dall'osso che mi scatafascia, vediamo se riesco a prenderlo questo bonus, non ce l'ho fatta, riparto con la corsa, vedete c'è qualcuno lì che mi segue, non ho capito chi è, ma io corro più veloce di lui, corro perché voglio i miei Oscar, vai vai Leonardino, eccolo lì l'Oscar che mi attira, ce la faccio, eccellente, grazie, sono un grande, lo so non c'è bisogno, e se lo devo strisciare fino a quella macchina, vediamo se ce la faccio, eccellente pure qui, 500 punti di bonus, andiamo, si riparte, ecco che mi ha fermato per un momento un paparazzo, ma io inseguo il mio, attenzione, grande salto di Leonardino, tanti paparazzi, tanti paparazzi che mi scocciano, è lontano, è lontano, non ce l'ho fatta, mi sono fallita, mi fanno ripartire, ok, riproviamo a prendere questo Oscar, taglietevi davanti, paparazzinger, andiamo, 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 veloce, vai Leonardino, inseguo quel, lo vedo lontano, mi sa che ho fallito ancora, vediamo dove sono, niente, devo ancora riprovare, era un train insuperabile, devo andare più veloce, corri Leonardo, corri, schiacciali questi maledettissimi paparazzi, andiamo, 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 forse sto andando meglio, ho vinto un Golden Globe, forse, cosa ho preso, niente, ho fallito, ecco, 38 Golden Globes, ho vinto di tutto, tranne l'Oscar, maledizione, e va bene, ci proverò un'altra volta, per il momento direi che per oggi può bastare con questo gameplay, carissimi amici, spero che vi siate divertiti a vedermi correre come uno scalmanato dietro l'Oscar, peggio del nostro Leonardo DiCaprio, che almeno lui finalmente l'Oscar l'ha raggiunto, e allora vi lascio, come al solito, con un consiglio di lettura, e poi con una schermata, all'interno della quale vedete tanti altri video che potreste, sui quali potreste cliccare per vederli, sono tutti i video raccomandati dal vostro Ginovox, adesso vi saluto con uno yeeho accidentale, e vi do appuntamento al prossimo gameplay, o alla prossima video recensione di Book Parade, dal vostro Ginovox, un mega ciao!